Bene, benvenuti, grazie per essere qua. Per noi è bello, insomma, serate come queste per noi sono molto importanti perché di solito abitiamo sempre in periferia, siamo sempre distanti. I grandi eventi o comunque gli eventi quando vengono personaggi dall'estero, registi importanti, eccetera, vengono fatti sempre in Roma, Milano. E grazie a Paolo Minuto, al quale facciamo un applauso di Cine Club Internazionale, abbiamo già dato altri film distribuiti da lui in Italia, pochi, cerchiamo di darne di più, però grazie a lui noi questa sera abbiamo Maryam, alla quale facciamo un grandissimo applauso, che parla francese, quindi quanti di voi sanno il francese, così almeno magari evitiamo di fare traduzioni estemporanee, qualcuno lo sa, quindi possiamo parlare anche in francese, giusto? No, traduce Paolo. Grazie, loro stanno facendo il tour d'Italia, ieri sera erano a Perusia, domani andranno a Torino, sono partiti da Milano, hanno fatto Roma, Cagliari, insomma, per presentare Sofia. Noi ringraziamo il Comune di Senigallia e l'assessore Ilaria Ramazzotti, che ha accolto il nostro invito e che ringraziamo. Facciamo fare un saluto un attimo ad Ilaria, insomma, grazie per essere qua. Buonasera a tutti e a tutti, un saluto e un benvenuto. Un saluto e un benvenuto agli ospiti, alla regista, ringraziamento al Cinema Gabbiano per questa opportunità che ci dà di inserire nel mese di marzo, il mese dedicato alla giornata internazionale della donna, questa opportunità per riflettere su una delle tematiche più importanti dell'universo femminile, è quella della maternità. È ovviamente un tema che riguarda un po' tutte le donne, ognuno l'ha vissuta o direttamente o prendendosi cura di qualcuno. Quindi un tema che attraversa la vita dell'essere umano e in modo particolare dell'essere umano femminile. Ovviamente con tante sfaccettature, per cui sono lieta e anche contenta, e anche curiosa di poter vedere questo film, e di vedere quali aspetti della maternità vengono messi in luce, in modo particolare in una cultura magari anche diversa dalla nostra, ma non per questo che è attraversata dalle stesse questioni, dalle stesse forse anche drammi, ma anche dalle stesse gioie, dalla stessa voglia di vivere che ogni donna porta in sé. Quindi grazie alla regista per aver preso a cuore questo tema così importante, grazie alla presenza degli altri ospiti, grazie al Cinema Gabbiano per darci in questo mese questa opportunità. Grazie, grazie Assessore, grazie Ilaria. Ringraziamo anche Paolo di Amnesty, Amnesty appoggia questo film, ci puoi dire perché? Sì, velocissimamente, Amnesty ha dato il patrocinio, infatti questo film gira con il marchio, diciamo così, di Amnesty International, non è una cosa che noi diamo con molta facilità, non perché siamo snob, ma perché tendiamo a darli a prodotti di qualità. Il nostro lavoro per i diritti umani, abbinato all'arte, è sempre una cosa che sta crescendo, cinema, letteratura, musica, tutte queste cose ci aiutano a difendere i diritti umani in un momento difficile. Il motivo del patrocinio, e passo subito la parola, è esattamente quello che poi vedete nel film e che io non vi svelo, è questa legge, la 490, che viene nominata nel film, che criminalizza i rapporti fuori del matrimonio, rende praticamente discriminatorio l'atteggiamento dello Stato nei confronti delle donne e soprattutto nega di fatto il diritto alla salute. Questa cosa che io ho detto in modo molto duro, se volete, e che è istituzionalizzata, viene resa molto bene, voi lo vedrete nel film. Grazie. Bene, grazie Paolo. Da un Paolo a un altro, Paolo io ti passo il microfono. Pensi tu? Grazie, grazie a tutti, grazie al pubblico, grazie a Carmine Imparato per aver accettato di ospitarci in questa sala, grazie all'assessore, comunque è sempre importante avere le istituzioni che in un paese democratico vengono dalla base, e quindi siamo contenti, Amnesty fa parte dell'associazionismo che difende i diritti umani e quindi ci siamo onorati del fatto che Amnesty International Italia sostenga questo film. Ma siamo tutti contenti, tutti insieme mi unisco a voi, che Marianne Benbarek dal premio di Cannes fino all'uscita nelle sale in Francia, in Spagna e in Grecia è arrivata adesso in Italia, è l'inizio della programmazione ufficiale del film è oggi e in questa giornata siamo contenti di venire a Senigallia e in contemporanea siamo anche ad Ancona e in questo momento al Cinema Gabbiano è la prima volta che un ospite di Cinema Gabbiano arriva al Cinema Gabbiano e quando si inizia poi non si smette più, quindi continueremo. Grazie e benvenuta Meriem, qualche parola, che è come per qua, che ti faceva questo film? Che vuole più ti attende del pubblico che vedremo il film? Ben già, grazie e sono molto felice di essere qui e di aver trovato il pubblico italiano durante questa tournita. Io sono che i conti 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 i conti? Non, però... sono molto ricche. Quindi ho fatto questo film perché avevo un po' la volontà di ricostruire alcune idee un po' preconcezione che il pubblico occidentale può avere su il mondo arabe dove sono sempre le femmes sono rappresentate come victime del patriarcat e per me la realtà che la società d'un punto di vista legale, la società marocane è patriarcale la realtà mi sembra molto più complessa quindi avevo voglia di raccontare questa complessità della società di raccontare che c'è anche il matriarcat che existe in nostra società ma è qualcosa che è molto più propria alla cultura mediterranea e che credo si trova anche in Italia e avevo voglia di raccontare soprattutto la fracture sociale in mio paio perché credo che c'è da che c'è di queste cose che ne sono tutte le problematiche che abbiamo e tutta la colere e l'amertume che tutta una giunesse può avere quindi il film comincia come il portare di una jeune figlia che si chiama Sofia ma è un po' più a un po' il s'èlargit verso il portare di tutta una società a traversa la relazione di force e di pouvoir entre le diverse classi sociali sono contenta di essere qui in Italia sono contenta di incontrare il pubblico italiano e di conoscere le reazioni del pubblico italiano sono partita dal fatto che legalmente in Marocco esiste il patriarcato e questa legge lo dimostra ma di fatto la realtà è molto più complessa il film vuole affrontare ciò che c'è dietro questa apparente verità ma che apparentemente sembra l'unica in realtà è complessa la situazione e quindi c'è dell'altro volevo appunto raccontare come di fatto per esempio esiste un patriarcato cioè le donne che gestiscono all'interno della famiglia tutta la vita familiare anche l'economia familiare però è pur vero che c'è una grande frattura sociale in Marocco e quindi questo sia il patriarcato legale che il matriarcato di fatto non salvano nessuno ci sono delle grandi fratture sociali in Marocco c'è una grande rabbia anche giovanile nelle classi più povere e ci sono le classi più agiate che invece vivono un'altra vita ho voluto raccontare la storia di una ragazza che è Sofia ma poi allargare lo sguardo e raccontare una società intera è quello che vedrete naturalmente fra poco nel film al pubblico marocco si è piaciuto molto al pubblico soprattutto al pubblico di Ceto Popolare perché effettivamente riflette la realtà del Marocco e quindi mette in crisi lo sguardo precostituito occidentale ho voluto domandare allo sguardo precostituito occidentale se effettivamente ritraesse il vero Marocco in effetti no c'è molto di più e la complessità della società marocchina in realtà sono riuscita a trasmetterla e questo credo che abbia fatto sì che al pubblico marocchino sia molto piaciuto e quindi si distrugge un po' ciò che in maniera forse prevenuta c'è nello sguardo nostro europeo nei confronti del Marocco bene buona visione grazie scrivete scrivete sui social i vostri commenti così sì c'è la pagina Cine Club Internazionale se scrivete lì poi questo arriva a Merem arriva a tutti e insomma soprattutto se vi è piaciuto diciamo a Roma si dice se non vi è piaciuto fatevi i fatti vostri ma insomma comunque accettiamo eventualmente anche qualche dissenso però sono convinto che piacerà a tutti buona visione grazie grazie